Rieccoci qua insieme, partiamo subito con un'intervista interessantissima, perché appunto, come vi diceva all'inizio, siamo andati all'Università del Gusto di Vicenza, luogo straordinario dove si cimentano i nuovi chef, dove si allenano i vecchi chef, tra virgolette, fanno formazione, insomma scopriamo di che cosa si tratta con la nostra intervista. Università del Gusto di Creazzo Vicenza, ovvero? Ovvero il centro di formazione che Confcommercio Vicenza ha creato da due anni su 2000 metri quadrati e che è dedicato sia per quanto riguarda la formazione manageriale che per quanto riguarda il food alla cosiddetta Università del Gusto, che è dotata di tre cucine, laboratorio, più cucina pratica, più l'aerodimostrativa, dove chef di tutti, di grande e alto livello, vengono per tenere una serie di corsi per i professionisti, ma anche tutta una parte di corsi legata ai foodies, cioè agli amatori. Una struttura innovativa? È una struttura innovativa sia perché è stata aperta da pochissimo tempo, da due anni, ma soprattutto perché è stata dotata dalle migliori attrezzature in cucina, ma anche per quanto riguarda la parte manageriale, sono tutte aule informatizzate con le tecnologie all'avanguardia, proprio per consentire, garantire una formazione di livello che è quello per la quale infatti Confcommercio si è sempre spesa per i propri, non solo associati, ma anche per tutta la realtà del territorio. Cucine, prova, cucine all'avanguardia, anche queste? Le cucine sono all'avanguardia, dotate delle attrezzature più moderne e in modo tale che gli chef che vengono per tenere i corsi siano assolutamente aiutati e sostenuti nell'offrire, illustrare anche quale tecnologie moderne e all'avanguardia vengono impiegate in cucina. Che tipo di corsi vengono tenuti o master? Allora, i corsi, dicevo, l'ESAC formazione sarà sia manageriali, quindi che spaziano dalla parte del marketing, dalla parte dell'organizzazione, sulla parte di social, ma anche su tutto ciò che è il comparto anche di contabilità e per quanto riguarda il food, il food è di ogni genere, perché sui professionisti vengono fatte anche degli interventi speciali con certi chef, delle lezioni ad hoc, quindi sui primi, secondi, gli antipasti oppure anche a temi dedicati in occasione a alcune feste. E oltre questi corsi c'è anche il master dell'alta cucina italiana, che quindi oltre l'Università del Gusto, con febbraio ci sarà la terza edizione del master che vede in aula impiegati 22 ragazzi per 800 ore di formazione, più dopo successivamente ci sarà anche la parte di stage. Strutture del genere non ce ne sono e molte a livello nazionale? Allora, sicuramente è una struttura che si pone tra le prime a livello sicuramente regionale, ma anche nel nord Italia. Rispetto sicuramente può essere in competizione con altre realtà che ci sono. Grazie, Doressa. Fai mi fare una battuta. Eccoci qua. Allora, interessante la struttura. Interessante ed è troppo modesta la direttrice. Ci sono tre o quattro scuole in Italia. Io direi che quella di Vicenza, quella della Conf Commission di Vicenza, è sicuramente all'interno, è sul podio, è una delle tre. E siamo molto orgogliosi di questa esperienza, è gestita magnificamente. Ci sono chef importanti. Noi abbiamo lo chef migliore d'Italia in Veneto, proprio a Padova, ecco, che è Massimo Laimo. Ebbene, io credo che questa sapienza, questa intelligenza, questa conoscenza sia giusto che venga trasferita a maggior numero di persone possibile. È un punto di riferimento sicuro per la gastronomia, per la ristorazione italiana e mi auguro presto anche per quella internazionale. Questo sarebbe bellissimo perché è un ulteriore elemento per rilanciare certi aspetti turistici, ma anche economici. Mi pare che sono stato a visitarla qualche tempo fa e ho colto una cosa importante che poi abbiamo visto anche con Enrica. Cioè, una cosa è formare lo chef o il personale di sala, un'altra cosa è formare l'uomo o donna che sia chef e personale di sala. Sono due concetti profondamente diversi. E meglio il secondo, naturalmente. Certo, si integrano, si devono integrare. Altro tema che dobbiamo affrontare insieme, rilancio, benedetto rilancio dei centri storici. Crisi degli operatori, detti i lavori, degli esercenti nei centri che si stanno spopolando inelottabilmente. In certe realtà vediamo negozi che stanno chiudendo uno dopo l'altro, poi comincia uno e una catena infinita per una serie di motivi. Anche i costi esosi degli affitti, difficile sostenibilità dei costi, si parla anche con gli imprenditori della tassazione, eccetera. L'allettamento luccicante di nuovi centri commerciali, ne abbiamo visto una vicina mestre, che senza dubbio fanno il pienone. Quindi, quali sono i nuovi centri? Beh, allora, diciamo che il mercato va per conto suo e la politica cerca, non sempre con successo, di governarlo. Bisogna capire il mercato. Oggi, chi si occupa di mercato distributivo non può negare che la distribuzione fuori dai centri storici sta segnando il passo. Alcuni centri commerciali stanno chiudendo, magari altri, in alcune realtà italiane, stanno cercando di muovere i primi passi. Però è sintomatico il fatto che debbano, anche quelli recentemente aperti in Veneto, chiamare un complesso musicale per ricreare l'attrazione falsa all'interno di una struttura, un non luogo che è il centro commerciale. Allora, noi siamo sempre più convinti, ma non siamo solo noi di Commercio Veneto, credo anche altri studiosi, che il futuro del commercio ritorna ad essere quello dei centri storici. Certo, diversi da come erano in passato, certo, diversi da come magari li abbiamo trascinati in questi anni e con il problema degli affitti, il problema dell'accessibilità, la carenza di parcheggi. Cioè, tra centro commerciale extraurbano e centro commerciale naturale urbano, entrambi hanno dei punti di forza e di debolezza. Oggi il consumatore, beh, non è più come una volta che prende la macchina e viaggia in giro, fa centinaia di chilometri per andare a fare la spesa. Avrebbe piacere, soprattutto l'anziano, di trovarli vicino alla sua sede di residenza, magari in un ambiente confortevole. Ecco, oggi andare a fare la spesa, non so se il rappresentante dei consumatori su questo è d'accordo, non è solo spendere, è andare a fare una esperienza. Che vuol dire, vado in quel luogo perché mi arricchisco di cultura, di conoscenza, faccio una cosa insolita rispetto ad andare ad approvvigionarmi e basta, e quindi compro del valore e pago volentieri, naturalmente con una politica dei prezzi che sia coerente con la povertà dell'italiano oggi, questo sicuramente. Ecco allora, se i centri storici, i centri urbani direi, che ne abbiamo tantissimi in Veneto, ripensano al loro ruolo, al loro funzione, e i commercianti si alleano con gli artigiani, con gli storatori, con gli operatori turistici, con l'istituzione pubblica, con i musei, con tutte le attrattive che il nostro territorio ha, io credo che i centri commerciali possano veramente rivitalizzare il commercio. Non a caso, la Regione, in particolare l'assessore Coppola, ha fatto un bando, che si chiama bando dei distretti commerciali, che si è chiuso proprio alcuni giorni or sono, e attraverso il quale investirà delle risorse economiche per la rivitalizzazione dei centri storici con funzioni commerciali e turistiche. È una bella mossa questa della Regione, è una politica attiva che segue la politica che aveva individuato per governare un po' lo sviluppo delle strutture exturbane, perché ormai queste sono tutte uguali, è difficile creare la novità. Oggi abbiamo bisogno di non spendere l'ira di Dio, ma soprattutto di fare un'esperienza e di imparare qualche cosa. È molto meglio farlo dove c'è una tradizione, una storia, una cultura, nel centro storico e non in mezzo alla campagna. Cosa ne dice, Vocato? Sono senz'altro d'accordo con il punto di vista della Confcommercio. Io devo dire la verità, del Veneto conosco bene Treviso e Padova e in entrambe queste città mi pare si stia assistendo ad una desertificazione dell'attività commerciale nei centri storici. Penso che i motivi siano molteplici. Comunque la desertificazione credo sia uno stato di fatto. Ormai sono più negozi con le saracinesche giù che quelli con le saracinesche su. Quindi noi senz'altro applaudiamo all'iniziativa della Regione Veneto e a tutto quello che sta facendo la Confcommercio per scongiurare appunto il peggioramento di questa situazione. Ecco, secondo me bisogna tenere conto anche dei vantaggi che derivano ai consumatori dall'utilizzare la rete per fare acquisti. Ormai in internet è possibile acquistare qualsiasi tipo di prodotto a prezzi assolutamente iper vantaggiosi. Quindi un ulteriore concorrente. Ecco, eh beh senz'altro sì, senz'altro sì. Però lì non vedi, non tocchi, non provi e poi comunque... Ma infatti più che pensare alla rete di internet che sta prendendo piede nel nostro paese come un'alternanza al negozio, no? È lo stesso negozio che deve fare un sito web e vendere anche via internet. E questo è un salto di qualità. Ecco, un negozio che però offre qualche cosa di più della rete. Il rapporto umano, la relazione, l'evento anche, ma non senza esagerare. E che soprattutto sia lui in rete mentalmente con i colleghi, dello stesso settore, degli artigiani e con il pubblico. Perché nei centri storici, più che nei centri exurbani, il ruolo del pubblico è fondamentale anche per creare le condizioni economiche per stare meglio. In effetti in questo bando si sperimenteranno due soluzioni. La cosiddetta fiscalità di vantaggio, cioè pago meno l'utilizzo del suolo pubblico, il recupero delle immondizie. Padova l'ha fatto, no? Esattamente. E anche certo di fare una politica degli affitti tale che costino meno di quanto costano adesso. Magari con quelli che si chiamano temporary store, cioè per sei mesi un negozio, per due mesi un altro. È un bel progetto sperimentale. Io chiedo questo un po' da entrambi, buttata là. Ma tante volte adesso con gli orari di lavoro particolari, con tutto un sistema di vita che ti porta a vivere molte volte fuori dalle città, eccetera. Tu non puoi andare in centro alle 4 di pomeriggio, se non è per lavoro e quindi non ti interessano i negozi. O alle 10 di mattina, alle 11, eccetera, se non la casalinga che abita nelle vicinanze, quelle poche che sono in casalingo, pensionato, eccetera. Uno ci va il sabato e la domenica, vedere i centri. A me è capitato per esempio di andare a Mantova. I negozi erano aperti, pieno di gente. I negozi erano anche pieni, sono andata anche a Bologna. I negozi erano pieni di gente, contrariamente alla Moria, che purtroppo stiamo assistendo qui in Veneto. È una cosa triste, a parte i grandi classi che ci cagatene. Allora volevo dire, non è questo anche contro quello che voi state propugnando, cioè della chiusura domenicale, perché la gente va nei centri, non solo perché c'è la bandina che fa un po' di spettacolino per i bambini, ma perché può andare a fare la spesa. E siccome ormai siamo tutti costretti a poterci permettere questo, tra virgolette, lusso, di guardare, sognare qualcosa, solo i fini di settimana, se si chiude anche la domenica e sabato, non interessa a nessuno che il martedì alle 4 di pomeriggio siano aperti i negozi, perché chi ci va? Una percentuale bassissima, butterà la provocazione. Eh, ma non concordo su quello che dici. Eh, no, no, ma io immagino perché ho fatto la provocazione. Il governo Monti ha liberalizzato i turni di apertura domenicali. Dal governo Monti a oggi i consumi complessivi sono diminuiti. Quindi la motivazione apra domenica per aumentare i consumi non funziona. Non è che aprendo la domenica si consumi di più. Aprendo la domenica si fa il favore di chi prende magari i lavoratori, come i grandi di distribuzione, interinali, non i propri, quindi magari li sottopaga, e riesce a tenere aperto più facilmente di chi invece in un centro storico non va a prendersi il lavoratore interinale. Deve utilizzare i propri dipendenti. No, 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 io dico, chiudi martedì, mercoledì, recuperi e lavori il sabato e la domenica. Cioè, chiusura. No, ma lavori il sabato, in altri paesi europei si lavora il sabato, la domenica sono chiusi. Come dire, i consumatori cosa ne pensate? Siamo d'accordo, siamo sempre d'accordo, ma è la verità. No, no, ci scontreremo, prima o poi ci scontreremo. Ma questo perché lo dico, questo perché lo dico, perché a suo tempo avevamo letto il rapporto fatto dalla Conf Commercio, da cui appunto emergeva in maniera equivocabile che le aperture domenicali non avevano portato maggiori... Ma ha la stessa grande distribuzione. Sai quando portano maggiori ricavi? Quando un centro è aperto e l'altro è chiuso. Allora è chiaro che quello aperto fa più ricavi di quello chiuso, ma non perché. Se aprono entrambi, è una misura che non ha portato benefici. Quindi ha altri sistemi per trovare... Bisogna dare più servizi e più valore al consumatore. Chiarissimo. Allora, detto questo, l'avrei fatto questa puntata molto varia, piacevole anche con tantissimi spunti e stimoli. Ringraziamo Conf Commercio Veneto della partecipazione e gli ospiti che ci hanno supportato, Sezioni Consumatori e anche la nostra chef. Appuntamento naturalmente prossima settimana, riusciamo a fare un altro incontro. Comunque tra non molto ve lo annunceremo e voi buon proseguimento. Riflettete. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per la visione!